Buongiorno e ben trovati con la rassegna di 8chan nel canale 696. Andiamo subito a vedere insieme i titoli in primo piano. Oggi sui quotidiani nazionali e locali cominciamo dall'edizione nazionale di Repubblica. Fisco, lo strappo di Salvini, il titolo di apertura. La crisi di governo, i suoi ministri disertano il vertice di governo sulla riforma del fisco. Nessun voto in bianco annunciano. Draghi va avanti lo stesso e il leader leghista chiarisca. Cambiano le aliquote IRPEF e deduzioni. Potenziata anche la lotta all'evasione. Il nuovo catastro arriverà dal 2026 e il Premier assicura che nessuno pagherà di più o di meno. A Roma intanto comincia la partita per il ballottaggio. Calenda al Partito Democratico dice o con me o con i 5 Stelle. Ancora in primo piano sulla Repubblica nazionale il Nobel a Giorgio Parisi, fisica che salva il clima. Andiamo a vedere. Vince assieme ad altri due scienziati. A tutti ha assicurato di non aspettarselo. Poi ha confessato il telefono. Però lo tenevo vicino. Giorgio Parisi, romano di 73 anni e il vincitore del premio Nobel per la fisica assieme allo scienziato americano di origini giapponesi Manabe, 90 anni e al tedesco Klaus Hasselman, 89 anni. Parisi è stato premiato per la scoperta dell'interazione tra il disordine e le fluttuazioni nei sistemi fisici dal livello atomico alla scala planetaria. Il commento di Marco Malvaldi, se la complessità è semplice, la nostra capacità di conservare delle informazioni dipende da quanto dura il materiale su cui le scriviamo. E all'interno Repubblica cerca appunto di spiegare e di commentare questo premio all'italiano, allo scienziato italiano. Andiamo a vedere nelle pagine interne velocemente la riforma del fisco, i punti essenziali. Intanto lo scontro con la Lega che ha disertato il CDM ma la delega passa comunque. Gli esponenti del partito non partecipano all'ordine dell'esecutivo che approva la legge. Salvini contesta il metodo, non è l'oroscopo, dice il capo del governo, spiegherà il suo no. A 24 ore dalla scoppola elettorale nelle grandi città la Lega dissotterra l'ascia di guerra e rompe con Draghi sulla legge del Lega sul fisco. Uno strappo improvviso appena adombrato da Matteo Salvini a Milano, subito dopo le amministrative perse, quando aveva detto che nei riguardi dell'azione di governo sarebbe stato più concreto e diretto. Nessuno pensi di rivedere il catastro e aumentare l'Imu. Aveva minacciato lunedì sera il capo del carroccio alla ricerca del consenso perduto. Salvini non si aspettava o almeno questo fa trapelare che di lì a poco il Premier avrebbe dato un'accelerata alla delega fiscale fino a condurla all'approvazione a Palazzo Chigi. Nel testo dei dieci articoli vi viaggia con la garanzia di Draghi che non cambia l'imposizione su case e terreni. Nessuno, sottolinea il ministro, pagherà di più o di meno. E ogni decreto delegato su IRP e FIVA, IRAP, avrà un sistema che non intende aumentare il gettito ma diminuirlo. Ma sono rassicurazioni che non bastano alla Lega per firmare quello che Salvini ha definito un mandato in bianco al governo. L'attacco è severo e si conclude per ora con l'assenza dei rappresentanti del partito di Via Bellerio al momento del voto sul provvedimento. La delega passa comunque. Draghi è freddo, sull'agenda tira dritto, non si fa condizionare, non crede alla rottura e valuta anche un incontro con Salvini. Intanto prepara la legge sulla concorrenza, che è un'altra delle riforme molto attese da questo governo. Andiamo a vedere alcuni punti essenziali. Eccoli qui, lotta contro l'evasione da 100 miliardi, il catastro solo nel 2026. Un intervento per ridurre l'aliquota da 28 a 55 mila euro. L'obiettivo è ridurre la pressione fiscale sul lavoro e imprese. Nel 2019 era di due punti superiori alla media dell'eurozona e vari punti sopra la media oxe, dice il ministro dell'economia Franco. Adesso ci si muove verso un sistema duale che preveda la stessa aliquota di tassazione, sia per i redditi da capitale che per i redditi da impresa. Oggi tassati dall'IRES e si prevede poi l'eliminazione di microtributi che oggi assicurano gettito trascurabile per l'erario. Il riordino di detrazioni e deduzioni, l'armonizzazione dei regimi di tassazione del risparmio con le azioni bond e titoli pubblici e soprattutto un intervento molto atteso sulla struttura dell'IRPEF per ridurre l'aliquota media che grava sulla fascia tra 28 e 55 mila euro di reddito. Un esplicito riferimento dunque alla legge delega del governo. Ancora sull'IVA troppi valori diversi e si punta a razionalizzarli. L'IVA sarà razionalizzata come chiede da tempo anche la Commissione europea nelle sue raccomandazioni. Ora abbiamo un'aliquota ordinaria al 22%, due ridotte al 4% e al 10% e una al 5% dice il Ministro dell'Economia. Vogliamo ripensare questa struttura per semplificare il tributo, ridurre l'evasione e l'erosione che ci costano ogni anno 30 miliardi. Dunque si punta a rivedere il numero e i livelli delle aliquote oltre alle basi imponibili. Si vedrà poi come verranno corrette anche alcune distorsioni. Insomma questi alcuni dei punti essenziali di questa riforma del fisco che si annuncia abbastanza corposa e anche scivolosa per il governo. Andiamo a vedere adesso la prima pagina del Roma dedicata, come vedete dalla foto, al nuovo sindaco di Napoli che è già a lavoro Gaetano Manfredi, filo diretto con Roma, sicura, salviamo Napoli. I primi 100 giorni, dice il sindaco, saranno molto duri, prepara la giunta, i nomi ci saranno in due settimane ma non fa anticipazioni. De Magistris intanto saluta dal suo ufficio per l'ultima volta e tutte le preferenze oggi su Roma degli eletti nei consigli comunali. E allora andiamo a sentire innanzitutto il sindaco Gaetano Manfredi. Ieri anche la conferenza stampa del Partito Democratico che risulta il primo partito a Napoli. Vediamo. Chiacchierata e caffè post-elettorale questa mattina per il nuovo sindaco di Napoli Gaetano Manfredi è eletto al primo turno con il 63% dei voti, prima volta assoluta nella storia amministrativa di Napoli. Primo atto da sindaco a riaprire il comune alla città e preparare i bandi per i fondi europei. E presto arriverà la giunta, composta da persone serie e competenti, assicura il sindaco. Bisogna subito ripartire, poi avviare i progetti legati al recovery, presentare domande per i bandi che sono in corso, c'è tantissimo da fare subito. Sicuramente noi sceglieremo persone di alto livello con profili molto alti, adesso non posso fare ancora delle anticipazioni perché devo anche valutare le disponibilità. Però Napoli ha bisogno di un'aggiunta di alto livello con grandi competenze perché la sfida è importantissima, dobbiamo mettere il meglio possibile in campo. Ci sarà un governo autonomo che però ascolterà tutti perché io credo molto nel pluralismo della coalizione che mi ha sostenuto, che rappresenta tante anime della città e noi li dobbiamo rappresentare tutte. E il nuovo consiglio comunale a trazione PD 5 Stelle comincia a prendere forma con i 40 consiglieri che hanno fatto incetta di voti. Alla coalizione di Gaetano Manfredi dovrebbero andare 29 seggi, altri 12 alle opposizioni, 8 a Maresca, 2 a Bassolino e 2 alla Clemente. La forza che guadagna più seggi è il Partito Democratico con sei esponenti. Per il segretario Marco Sarracino fa autore del patto con i 5 Stelle una grande soddisfazione. Insieme ai 5 Stelle profonda collaborazione, abbiamo costruito con loro un nuovo campo politico, è una novità per il paese io penso. E da Napoli stiamo dimostrando che la destra si può battere con grandi candidati di qualità appunto come Manfredi e con grandi coalizioni con il PD e il Movimento 5 Stelle. E allora vediamolo insieme sempre sul Roma il nuovo consiglio comunale. In maggioranza troviamo Gennaro Acampora, Enzammato, Salvatore Madonna, Aniello Esposito, Pasquale Esposito e Maria Grazia Vitelli, tutti del Partito Democratico. La lista Manfredi Sindaco, 5 seggi Walter Savarese, Luigi Musso, Sergio Colella, Fulvio Fucito e Gennaro Esposito. 5 Stelle, anche loro 5 seggi Borriello, Sorrentino, Flocco, Saggese e Paipais. 2 seggi alla lista Azzurri Italia Viva, 2 a Napoli Libera, 2 seggi anche la lista Noi Campani per la città, i Mastelliani di Napoli, 2 seggi anche a Sergio D'Angelo e Rosario Andreozzi per il Welfare. Gennaro Rispoli, adesso Napoli, Europa Verde guadagna un seggio in Consiglio Comunale, uno anche al Centro Democratico e uno ai Moderati. Per quanto riguarda l'opposizione, 3 seggi vanno a Forza Italia, uno a Fratelli d'Italia, uno a Essere Napoli, uno alla lista Napoli Capitale, uno a Cambiamo. Anche Antonio Bassolino avrà 2 seggi in Consiglio Comunale, per sé e per Salvatore Lange di Bassolino per Napoli e Alessandra Clemente, candidata a Sindaco. Avrà anche lei il suo seggio all'opposizione, stavolta insieme a Claudio Cecere della lista Alessandra Clemente, sindaco. E intanto abbiamo visto il PD esulta per il risultato, ma i grillini sono divisi e da Torino arriva un attacco a Conte. Ciarambino dice ai nostri consiglieri, scelta adeguata per Napoli, presutto però, commenta, mi sarei aspettato un risultato migliore. La candidata a Sindaco, Conte, è andato solo dove si vince, la faccia si mette ovunque. Il Movimento 5 Stelle è diviso sul risultato napoletano e c'è chi provvede subito a rovinare le cose. Anche a distanza si tratta di Valentina Sganga, protagonista del disastro a Torino. La candidata a Sindaco, pur non nominandolo, critica il leader Giuseppe Conte. Su Facebook diventa anche esplicita. Il Movimento 5 Stelle è una comunità, si vince e si perde insieme ad ogni livello locale e nazionale. Andiamo avanti ancora sull'elettorale. Ieri c'è stato il saluto del Sindaco uscente, ormai ex Sindaco Luigi De Magistris. Un saluto amaro dalla sua scrivania, anche perché il risultato in Calabria non è confortante. Luigi De Magistris, terzo eletto alle regionali in Calabria, non entra nemmeno in Consiglio regionale. E adesso si prenderà una pausa, annuncia De Ma. Sentiamo. E' l'ultimo saluto qui in questa scrivania, in questo ufficio da Sindaco di Napoli. Il più longevo dal 1806. Per me è stato un grande onore, un grande privilegio, una grande fatica. Gli occhi gonfidi di chi non ha dormito e forse ha pianto anche un po' il volto stanco su cui si leggono tutti e dieci questi anni da Sindaco di Napoli. Sembra lontanissimo, addirittura un altro uomo, il Sindaco con la bandana che correva verso Palazzo San Giacomo. In un video, ecco l'ultimo saluto di Luigi De Magistris dalla scrivania di quello che è stato il suo ufficio per dieci anni, che da domani sarà il quartier generale del nuovo Sindaco eletto con il 63% delle preferenze. Voglio ringraziare innanzitutto i napoletani, non dimenticherò mai sguardi, sofferenze, lacrime. De Magistris coglie l'occasione per commentare anche il risultato delle elezioni regionali in Calabria, che lo hanno visto correre e perdere. Poi consentitemi anche di ringraziare 130.000 calabresi e calabresi che mi hanno votato, facendoci raggiungere il 16,5% nell'elezione più difficile regionali in Calabria. Adesso è venuto il momento di riflettere per come continuare a spendere la vita per il bene comune, per il nostro Paese, ma soprattutto per il nostro Mezzogiorno, che ha tanto bisogno di persone che fanno politiche di istituzioni, non per interessi personali. Andiamo adesso a Salerno, sempre sul Roma, lo speciale elezioni. Ieri c'è stata la prima conferenza del sindaco riconfermato in Cenzo Napoli. Tempi rapidi per la giunta, assicura il sindaco, che detta l'agenda della priorità di governo. Ci sono grandi opere, ma anche più attenzione ai quartieri. E poi ci sono tutti gli eletti del nuovo Consiglio Comunale, tra maggioranze e opposizione, li trovate sempre sul Roma, oggi in edicola. Ma intanto andiamo a vedere che cosa ha detto il sindaco Vincenzo Napoli. Il ringraziamento ai salernitani per il risultato elettorale e l'impegno a puntare su due temi forti per la prossima consigliatura. Le grandi opere con i cantieri del ripascimento, dell'aeroporto e del nuovo ospedale ma anche una maggiore attenzione alle esigenze dei quartieri e delle periferie. Enzo Napoli succede a se stesso alla guida del comune di Salerno e assicura tempi brevi per la definizione della nuova giunta. Sono veramente orgoglioso e in questo sono grato ai miei concittadini che hanno reso possibile questo onore. Ai tempi della nuova giunta? Credo sufficientemente brevi. Nelle fila della maggioranza c'è soddisfazione soprattutto tra i socialisti. Il partito è l'unico ad aver migliorato i dati rispetto a cinque anni fa e vuole giocare un ruolo da protagonista come ha spiegato il segretario nazionale del Garofano Enzo Maraio. Riteniamo che il buon lavoro fatto negli ultimi anni a fianco di Vincenzo Napoli possa essere confermato con un ulteriore rapporto di collaborazione che noi intendiamo fare in consiglio comunale così come all'interno della giunta. Nelle opposizioni la sconfitta provoca già le prime conseguenze. Il segretario cittadino della Lega, Rosario Peduto, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico dopo quello che ha definito il deludente risultato elettorale. Elisabetta Barone, dal canto suo, rilancia l'impegno politico e non risparmia stoccate ai deluchiani. C'è stato anche un momento in cui abbiamo pensato possibile un ballottaggio. Sappiamo di tanti che avrebbero voluto ma non hanno potuto votarci. Sono una voce libera che ha dato voce a tanti cittadini liberi di questa città. Tra le altre curiosità ancora a Salerno è l'ex Assessore Dario Loffredo, il record man di preferenze delle elezioni amministrative di Salerno, Assessore uscente alla Nona, cinque anni fa era stato eletto nella lista del Partito Socialista con 1813 preferenze ricevute. Stavolta Loffredo ha fatto il pieno nella superlista dei progressisti per Salerno. Sette i seggi conquistati a Palazzo di Città, una delle tre civiche di ispirazione deluchiana e nella quale hanno trovato posto diversi esponenti anche del Partito Democratico. Il plebiscito a Giffoni-Vallepiana trionfò bulgaro per Giuliano. Un risultato netto, Antonio Giuliano si è riconfermato sindaco di Giffoni-Vallepiana con uno straordinario plebiscito. L'uscente godeva del sostegno anche dei vertici del Partito Democratico salernitano. hanno abbattuto Luigi Bernabò, ex consigliere al Comune di Salerno. Le quote rosa, solo tre sindaci donna in provincia di Salerno, su 40 comuni chiamati al voto, appunto solo in tre hanno eletto sindaci donna. Il risultato più importante arriva da Praiano, in costiera amalfitana, dove Anna Maria Caso ha ottenuto la fascia tricolore, diventando la prima sindaco donna della costiera amalfitana. Anche il piccolo centro di Monte San Giacomo decide per la svolta e sceglie Angela D'Alto. È successo anche per Michela Cimino, la prima donna alla guida della città di Padula. Andiamo a vedere adesso a Benevento. Benevento andrà al ballottaggio tra due settimane. Lo sfidante attacca dai social, ha paura di perdere, arriva al ballottaggio con meno voti delle liste. Il sindaco sciente dice, mai visto qualcuno festeggiare con 18 punti percentuali di distanza da me. E dunque, è ricominciata la battaglia in vista del ballottaggio. Andiamo a vedere questo servizio. Io e Perifono siamo esperti di ballottaggio. Lui l'ho perso, io l'ho vinto. Questa è la differenza. Clemente Mastella analizza il risultato del primo turno degli amministrativi a Benevento, dove ha sfiorato per un soffio la vittoria con il 49,33% delle preferenze. E dunque sarà ballottaggio con il candidato sindaco di Alternativa per Benevento, Luigi Diego Perifano, che ha totalizzato il 32,34%, mentre Angelo Moretti ha il 13,25% e il centrodestra con Rosetta d'Estasio al 5,07%. Gela gli avversari, Clemente Mastella. Vedo fuochi artificiali di questo gruppetto di odiatori seriali. Qualcuno sostiene sia nato addirittura un comitato di liberazione nazionale, come se fossimo nel nazifascismo. E poi al Partito Democratico, che festeggia il traguardo di primo partito in città, dice abbiamo già la maggioranza in Consiglio, sarebbe un disastro amministrativo. E chiederò all'opinione pubblica, volete che ci sia quest'anno a Trazoppe eventualmente se arriva qualche altro, avendolo già definito che il Consiglio Comunale è fatto a 18, che hanno sottoscritto questa nuova pagina di storia, standomi accanto, e sono 18 i consiglieri comunali. Perché c'è la maggioranza nostra in Consiglio Comunale? Spiegatelo a Borghi, perché non lo sa. La maggioranza in Consiglio Comunale è fatta a 18 componenti. E se vinciamo, come io ritengo che vinciamo, arriviamo a 21. Ma allora se dovessero, rimangono zoppi. Non teme gli apparentamenti dei competitor, chiederò alla gente e poi chiude, mai contro di me tanto odio. Però devo dire, mai ho visto una cosa così malvagia, una malvagità fuori senso, fuori luogo. E ancora sul Roma da Benevento, la possibilità dell'Anatra Zoppa, l'avete sentito prima Mastella, il paradosso di vincere perdendo. L'Anatra Zoppa, come nel 93, può verificarsi, ma le analogie politiche sono francamente pochissime. A dirlo è Pasquale Viespoli, ex sindaco di Benevento, eletto per la prima volta nel 93, appunto, proprio vincendo al ballottaggio, ma con una maggioranza avversa. Io avevo solo una lista con sei consiglieri su 40, ero un candidato sindaco trainante. Oggi c'è un candidato sindaco trainato, dice Viespoli, del mese il mio avversario non veniva dalla politica, era un magistrato nel 93 del Basso e Mastella, ritennero che era un profilo che tirava, e poi c'erano i partiti, una DC fortissima. Oggi c'è una variegata alleanza, meramente territoriale, senza alcun riferimento. Insomma, i contesti sono molto diversi, ma la sostanza non cambia, perché se dovesse, appunto, verificarsi questa situazione, sarebbe molto complicato governare. Tra le altre curiosità, nel Sannio, le quote rosa, anche qui, zero donne elette nel Sannio, zero donne sindaco, elette nei 20 comuni sanniti, andate al voto domenica e lunedì, solo quattro donne candidate su 46 aspiranti sindaco, è un bilancio in fausto, appunto, quello per le donne che viene fuori dal Sannio. E poi, a Palazzo Mossi, c'è una nutrita, invece, pattuglia femminile, al Comune di Benevento, nove donne sono già in Consiglio Comunale, con la maggioranza conquistata da Mastella, di 18 consiglieri. La geografia del voto, il centro è diviso, Contrade, invece, con Mastella, il centro di Benevento e i quartieri alti si dividono nei quartieri popolari, e nelle Contrade vince Mastella. Sembra essere questa, invece, appunto, la geografia del voto in città. Prima volta, sorprese e delusioni dell'urna, il PD si conferma a primo partito a Benevento, e anche il più votato è un giovane, Raffaele De Longis, con 889 preferenze. Boom, anche di Alessandro Rosa, un medico sannita, schierato con Mastella, che raggiunge 602 voti, con la lista Benevento, bellissima. Andiamo avanti, andiamo a vedere Caserta, perse le preferenze, pasticcio al Comune, elaboratore in tilt, tutto da rifare, Zinzi denuncia errori nel conteggio dei voti, e anche a Caserta, anzi andrà a ballottaggio, Marino, mi rivolgerò a tutti, il leghista dice per lui, il dato peggiore d'Italia, liste fratelli d'Italia, tallona il PD, e crolla Forza Italia, in provincia di Caserta. Andiamo a vedere adesso, ancora la pagina nazionale, lo strappo dopo la batosta, la Lega che insomma ha creato il caos, Letta, eletto anche in Parlamento, già si sente Prodi, e lavora al nuovo Ulivo, esulta il PD, i dem primi nelle grandi città, fondano i grillini, il leader del Nazareno, dice la nostra rivincita. A Roma, ballottaggio, Gualtieri Calenda, prove d'intesa, Michetti resta solo con la Meloni. E poi abbiamo la cronaca, andiamo a vedere anche un po' di cronaca sul Roma, truffa, bancarotta, il riciclaggio con gli alcolici, nove indagati nell'inchiesta, quattro fratelli ai domiciliari, due commercialisti sospesi, sigilli a distillerie di Pastorano e Capodrise. De Orsa, giudizio 15 commercianti, qui torniamo sulla cronaca, ma siamo a Benevento, si tratta di attività situate soprattutto nel centro storico del capoluogo, processo a maggio 2022, l'inchiesta del PM Tillo e dei Carabinieri di Napoli sulle strutture installate dai titolari dei negozi che hanno appunto suscitato un'inchiesta. Ziano abbandonato e morto, nuova perizia per Pierina, a pace vecchia, dramma nel 2020, rito abbreviato per una 65enne che accudiva la vittima. ma il 3 novembre la sentenza è ancora sul Roma, dall'Irpinia il posto voto. Ciampi, gli irpini votano i loro aguzzini, il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle dice qui in Irpinia l'accordo sarebbe impossibile, dal governatore De Luca solo promesse non mantenute. Su 33 nuovi sindaci 19 fanno riferimento al PD, il consigliere regionale Petracca dice la vittoria di un gruppo straordinario. Andiamo a vedere il servizio. Se a Napoli l'alleanza Movimento 5 Stelle PD sbanca, in Irpinia le cose vanno diversamente. Si leva la protesta del consigliere regionale dei pentastellati, Vincenzo Ciampi, che commenta amaramente l'esito del voto. In provincia di Avellino e il Deluchiano, Maurizio Petracca, La mia perplessità nasce dal fatto che De Luca in questo primo anno di governo non ha assolutamente voluto bene alla provincia di Avellino. Questo consenso mi lascia molto perplesso, per questo ho detto che gli Irpini hanno votato i propri Aguzzini. Intanto l'Irpinia dei Comuni 1333 è volta pagina con le nuove fasce tricolori, incoronate 19 in tutto vicine al consigliere Petracca, che sul social commenta è la vittoria di un gruppo straordinario. I suoi riferimenti vincono nei comuni principali, come Giordano a Monteforte, Vito Pelosi a Serino, Pisano a San Martino Valle Caudina, per il secondo mandato. Tra i petracchiani ci sono anche i sindaci di Lacedonia di Conza, Frigento Conciullo, Torella dei Lombardi con Dei Ligatti, Angelo Antonio D'Agostino vince contro Rossella Baldassarre conquistando il comune di Monte Falcione. Vincenzo Biancardi ad Avella succede al fratello Domenico con la lista Colomba. Finisce un'epoca a Montefredane, dove Ciro Aquino batte Valentino Tropeano. Oggi stiamo andando a Roma per parlare dell'avvertenza Novoregni al Ministero dello Sviluppo Economico, daremo prova di essere classe dirigente responsabile in concreto sui problemi. Ancora sui quotidiani di carta stampata, le cronache di Salerno promossi e trombati, e il titolo di apertura restano fuori dal Consiglio Peppe Ventura, Stasi Gallo Guerra che può rientrare, della Greca. Nuova giunta, Natella, Falcone figlio Lia, con l'ombra di Roberto De Luca, scrive le cronache. Ancora figli delle Chiancarelle fuori, deluso anche Michele Ragosta, doccia gelata per i tifosi Granata. Nel frattempo la Salernitana ha offerte non congure e non vincolanti, se ne riparlerà il 15 novembre. Usciamo dai quotidiani di carta stampata, andiamo velocemente a leggere l'home page del sito 8pagine.it. A Napoli, inquinamento del fiume Sarno, due arresti dei carabinieri del Noe nel Napoletano. L'inchiesta dalla Procura di Torre è annunziata. Dalle prime ore di questa mattina, i carabinieri del gruppo Tutela Ambientale e Transizione Ecologica di Napoli, Compagnia Stella, stanno dando esecuzione a due provvedimenti cautelari agli arresti domiciliari emessi dal GIP del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della locale procura, carico di altrettante persone, per l'ipotesi di inquinamento ambientale del fiume Sarno. Scarico abusivo dei reflui industriali è reiterata violazione di sigilli. I provvedimenti si inseriscono nell'ambito di una più ampia e imponente attività di indagine convenzionalmente denominata. Rinascita Sarno, condotta proprio dal reparto speciale dell'arma, con il coordinamento della Procura Torrese, tesa ad individuare tutte le cause responsabili dell'inquinamento del noto corso d'acqua. Ancora in prima pagina, a Casal di Principe, il Covid miete altre tre vittime, tra cui una giovane madre nel Casertano, dolore a Casal di Principe e a Villa Literno, non ce l'ha fatta una giovane madre a sconfiggere il Covid. Il decesso è venuto a Casal di Principe, una comunità già molto provata dalla pandemia, e arriva anche il messaggio del sindaco Renato Natale. con questo decesso sale a 38 il numero dei nostri concittadini uccisi dal Covid, scrive il sindaco. Ancora la cronaca, Battipaia scomparso da ore trentenne, ritrovato ferito sotto il ponte del Tusciano, e poi assunzioni di parenti all'alto calore, si faccia chiarezza, ad Avellino il sindaco festa, ha proposto a Trenitalia una tratta Avellino-Roma, il sindaco rimanda di un giorno la consueta diretta Facebook del lunedì, a causa del blocco prolungato di WhatsApp, apre con l'augurio di buon lavoro a tutti i sindaci eletti in Irpinia, poi mette nel mirino l'alto calore. In settimana avremo l'assemblea, dopo la richiesta di fallimento da parte della Procura. Venerdì capiremo la posizione di alto calore, dobbiamo salvaguardare la storia al servizio pubblico dell'acqua e anche la forza lavoro. C'è una voce che parla di assunzione di parenti, degli amministratori, io non ci credo, mi è opportuno fare chiarezza su questa vicenda e approfondiremo queste voci. Purtroppo è evidente che l'alto calore sia stato utilizzato come serbatoio di voti. E con questo chiudiamo la nostra rassegna stampa, grazie per l'attenzione e una buona giornata. Grazie a tutti.